Nel 2020 la donna può dire di aver ottenuto quel ruolo che le spetta, ovvero la famosa parità di genere che spesso ancora viene messa in discussione. Questa è la domanda che abbiamo posto a diverse persone, diverse donne che abbiamo incontrato lungo le strade del centro di Campobasso. Il parere unanime è che sì, ci sono stati davvero dei grossi passi in avanti sia in ambito professionale che anche nel rispetto che la famiglia ha della donna, ma bisogna ancora lavorare molto sulla mentalità e quindi occorre ancora sfatare dei tabù culturali. Sentiamo allora come la pensano queste persone ai nostri microfoni. Dovremmo essere ancora un pochino più avanti, non so. Più considerate? Sì. Per esempio? Nella mia famiglia mi trovo bene con il mio figlio, con il mio marito, sì. Però nell'ambiente fuori casa, insomma, ancora si trovano persone che non ci considerano come dovremmo. Secondo te oggi la donna ha la giusta considerazione, magari nell'ambiente professionale o anche politico? Sicuramente non quella che merita. Come mai? Perché purtroppo spesso ancora oggi la donna è sottovalutata rispetto alle sue capacità, soprattutto al sud. Magari abbiamo ancora questa convinzione che la donna sta a casa e il marito lavora, invece non è affatto così. Sì, però c'è bisogno proprio di un cambiamento culturale perché senza di quello purtroppo non si riesce a cambiare un'idea così radicata, soprattutto nei piccoli territori dove si vede poco spesso quello che accade fuori. E quindi ce ne sarebbe tanto bisogno e speriamo che, insomma, si vada in questa direzione. Secondo te come bisognerebbe agire? Da cosa partire? Sicuramente dall'istruzione perché quando culturalmente comprendi quello di cui una società ha bisogno, capisci che il ruolo della donna è fondamentale. Diciamo che i diritti della donna sono cresciuti, decisamente, però c'è qualcosa che ancora andrebbe migliorato forse, sicuramente rispetto al passato decisamente meglio. Nel mondo professionale e anche nella politica, trovi che ci sia discriminazione oppure no? Oddio, c'è stata sicuramente una crescita professionale, però c'è ancora una sorta di pregiudizio nei confronti delle donne, quindi forse andrebbe migliorato anche in questo campo. Per esempio magari vedere delle donne nei ruoli apicali di enti pubblici? Esatto, anche se stiamo migliorando sicuramente, la donna sta crescendo sempre di più. Però l'uomo è visto sempre in maniera differente, forse. Lei trova che le donne siano considerate come è giusto che sia? Dipende dalle situazioni. Per esempio in ambito professionale? Eh sì, penso già ormai sì. Quindi lei non trova che ci siano discriminazioni oggi? Non penso, penso che la donna oggi è molto forte diventata. È lotta per se stessa. C'è tanto da fare, però ce la fa. Quindi spesso rappresenta un esempio, potremmo dire. Certo, sempre. La donna è sempre esempio, fa tutto. Secondo me fa molto di più di un uomo uomo. La donna è sempre più di un uomo.